Ciao a tutti ragazzi, sono Termi. Oggi vedremo il dietro il beat di 48 ore, nuovo feat tra Izzy e Sfera, uscito con un album Aleteia. Il beat è composto principalmente da un piano, un piano molto cubo, che cambia di due ottave durante tutto il pezzo e da un giro di accordi semplicissimo che si sente in alcuni stacchi tra una parte e l'altra. La melodia principale, ovvero quella di piano che si sente per tutto il pezzo, è questa. Un'ottava sopra Due ottave sopra Subito dopo gli accordi Passando i drums abbiamo questo pattern di kick Lo snare E infine l'808 E poi si aggiungono alcune percussioni come questo ride, che è una specie di piatto diciamo Poi questa percussione qui, che è una specie di rimshot E infine questo loop di percussioni formato da queste due percussioni qui Il pezzo principalmente è questo, l'unico cambiamento che abbiamo è l'808 nella parte di stacco in cui inizia la strofa di sfera Anche oggi siamo arrivati alla conclusione di questo video Io volevo ringraziarvi per le 600 visuals sul video di Calypso E ricordarvi che sul mio canale c'è una playlist dedicata interamente a questo tipo di video Volevo inoltre ricordarvi di iscrivervi, lasciare un commento e un mi piace Farmi sapere se vi è piaciuto l'album di Izzy e seguirmi su Instagram Bella a tutti e al prossimo video